Mi ricordo quando ero piccola che io e mia sorella litigavamo sempre perché tipo ci rubavamo vestiti a vicenda e un giorno lei è entrata in casa con questo maglione verde che io appena ho comprato e ho iniziato a urlare Maria! Mi hai rotto il cazzo così! E lei cercava di parlare e io no! Tu ora stai zitta! Che cazzo vuoi così? E a un certo punto mi zittisco e lei l'aveva comprato uguale No! Ce ne aveva un! Era solo! Pensa era pure una cosa... Era pure una cosa... Quanto mia pulpa hai fatto! Ma no pensa perché è una cosa... Nessuno, nessuno perché comunque... È pure una roba tenerissima, la sorella minore che guarda la maggiore e dice com'è carina, la prendo anche io... Cioè, devastante!